Michelle Unzich era a 43 anni e ha una forma fisica strepitosa. La conduttrice in un'intervista ha rivelato i segreti della sua dieta e del suo regime di fitness. Parlando di come e quanto si allena ha spiegato. Faccio soprattutto il ginnastica che definisce e corregge la postura. Una volta a settimana aggiungo cardio perché dopo i 40 anni, se non si è molto allenati, stressare il corpo con training che alzano troppo il battito cardiaco e sforzano i muscoli non va bene. Al settimanale oggi ha aggiunto. Sino a 33 anni ho sempre fatto solo sport all'aperto, sci, mountain bike, corsa, poi però stranutivo e mi si bloccava la schiena. È lì che ho scoperto la ginnastica posturale che insieme al Pilates mi ha cambiato la vita. Poi il regime alimentare. Ha detto. Evito gli zuccheri e i carboidrati semplici. Il pane ad esempio lo facciamo noi in casa e non usiamo farina doppio zero. Mangiamo pasta integrale. Sono convinta che lo zucchero sia una sorta di veleno per il corpo e credo che la maggior parte del merito della mia salute e anche della pelle la devo proprio a questa scelta. Infine la carne ne mangia pochissima, quasi per niente.